Cari amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Non abbiamo fatto un video parlando di Milan Fiorentina perché siamo ancora scossi e molto delusi sia dagli ultimi 20-25 minuti dei ragazzi che in superiorità numerica non hanno saputo concretizzare, non hanno saputo gestire la partita e abbiamo perso due punti fondamentali, ma anche per l'arbitraggio che mi ha deluso e non è la prima volta che Milan subisce dei torti arbitrali e che non fa niente, la dirigenza probabilmente, anche per alzare la voce e farsi sentire. Sembrerebbe che dopo la partita ci sia stato un colloquio tra i dirigenti rossoneri e la sezione degli arbitri che però hanno giustificato la valutazione di Calvarese e secondo me non ci sono giustificazioni. Il gol di Ibra era regolare, andava confermato e il rigore procurato da Patrick Cutrone è stato molto dubbio secondo me. Ho visto, voglio anche parlare di questo argomento, ho visto tutti gli attacchi social nei confronti di Patrick Cutrone e delle brutte minacce che gli sono arrivate. Io sinceramente non sono per niente d'accordo con queste minacce, le trovo inaccettabili e penso che sia sbagliato tutto questo, questo accanimento. La cosa che mi ha lasciato deluso, ma con totale educazione, cercando di non andare mai a commettere, a dire parole sbagliate, parole ingiuste nei confronti di un giocatore, ricordiamoci che è sempre una partita di calcio, però sono rimasto molto deluso e amareggiato dall'esultanza di Patrick Cutrone quando è stato procurato il rigore. È anche vero che sono dei professionisti, è anche vero che viene bagato profumatamente dalla Fiorentina, però un giocatore che è cresciuto nel nostro vivaio e mi sarei aspettato un comportamento diverso. Però Patrick è un giocatore che godrà sempre della mia stima e della mia simpatia, visto il percorso nelle giovanili rosso-nera. Una breaking news è che il Milan Genoa molto probabilmente, come confermato da Gravina, si disputerà a porte chiuse, a porte chiuse a seguito delle precauzioni che il governo ha cercato, il governo e la federazione calcistica vuole preservare quindi dal possibile passaggio del coronavirus. E quindi molto probabilmente la partita si giocherà a porte chiuse. A porte chiuse purtroppo non potremo assistere alla partita, non potremo sostenere attivamente i ragazzi, ma potremo seguire la partita comodamente da casa, cercando e sperando che il nostro Milan torni alla vittoria, torni soprattutto a una prestazione convincente, come i primi 50-55 minuti contro la Fiorentina, dove è stata padrone del campo e padrone del gioco. Infine l'ultima nota, sottolineo ancora le ottime prestazioni di Rebic, Rebic che sta facendo veramente molto bene in queste ultime gare, un Rebic che è un prestito biennale, quindi rimarrà sicuramente anche la prossima stagione in maglia rosso-nera, e poi Milan dovrà trattare con l'Eintracht Francoforte, quello che potrà essere eventualmente, fra un anno e mezzo, il possibile riscatto. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube Rubrica Rosso-Nera.